Buongiorno a tutti e a tutti, mi presento, sono Francesca Latorre, operatrice dell'Associazione ASAI. Vorrei per prima cosa ringraziare per questa preziosa opportunità di condivisione l'ISMEL, l'Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali, Elena, che è qui con noi e ci sostiene dal punto di vista tecnico, e in particolare Giancarlo Cerruti, che è promotore e sostenitore dell'iniziativa. Qui con me oggi ci sono due educatori che si occupano di progetti nelle scuole con l'Associazione ASAI, una docente della scuola primaria Poli dell'Istituto Comprensivo Regio Parco e una mamma di una bambina della scuola primaria e di un ragazzo della scuola superiore. La riflessione che vorremmo fare insieme quest'oggi riguarda il ruolo di ciascuno di noi e le trasformazioni che questo ha vissuto durante questo lungo periodo di emergenza che abbiamo e stiamo ancora in realtà attraversando. Di fatto la scuola non ha riaperto, siamo alla fine di questo periodo di didattica a distanza, ci stiamo avvicinando all'estate e alle incertezze che ancora riguardano purtroppo il nostro prossimo futuro in termini di ripartenza delle attività scolastiche. Essere o avere il ruolo è una differenza afro-omniana che porta in sé differenze nel vissuto e nell'agito di uno status che sono molto significative, soprattutto per alcuni ruoli, in particolare per quelli che implicano una relazione e dunque uno scambio, una reciprocità come quello dell'educatore, dell'insegnante e del genitore. In questo periodo straordinario, nel senso proprio di fuori dall'ordinario, di radicale trasformazione delle relazioni e della configurazione dei ruoli spesso intrecciati di ciascuno, il lavoro interprofessionale e di comunità ha svolto un compito fondamentale e si è inevitabilmente rinforzato. Questo momento ha, dal mio punto di vista, messo in evidenza con ancora maggiore forza e prepotenza il bisogno di testere reti e connessioni laddove prima non esistevano. Senza questa rete che connette specificità e competenze e le valorizza, mantenere relazioni a distanza sarebbe molto più complesso. In alcuni contesti sarebbe, e sarebbe stato dal mio punto di vista, quasi impossibile. Nel sistema scolastico e nel fare comunità educante spesso si presenta una complessità. Si incontrano difficoltà nelle interazioni tra gruppi e singoli di differenti estrazioni sociali, con interessi differenti, confini territoriali, barriere linguistiche e anche differenti visioni di risoluzione dei problemi. I singoli mettono spesso, in un primo momento, davanti gli interessi personali a quelli per la comunità. Non che questi due siano in contraddizione dal mio punto di vista, ma la sfida del sistema è proprio quella della ricerca, della persecuzione e dell'equilibrio tra questi due elementi, il loro congiungimento. E il congolgimento ha indubbiamente una funzione chiave in questo senso. Una forte motivazione al fare comunità è il senso di appartenenza, che spinge le persone a prendere parte a processi di costruzione collettiva, anche se hanno appunto caratteristiche differenti. Sentirsi parte di qualcosa di comune sprigiona delle energie e dei sentimenti che sono il motore dell'azione di comunità. Quando e laddove l'interazione produce responsabilità per il bene comune, si genera quindi un processo collettivo che mette in rete risorse e ricerca soluzioni a problemi comuni. Il sistema scolastico, dal mio punto di vista, deve sostenere le risorse delle persone che si mettono in rete e avviare dei processi di corresponsabilità e di cura reciproca, non solo verso ciò che è a fine o prossimo, ma rivolti all'altro come valore comune. Non esiste, secondo me, comunità se i soggetti singoli non si sentono parte di essa. Dopo queste premesse, anzi alla luce proprio di queste premesse, vorrei iniziare con una domanda a Essadia, mediatrice interculturale, cuoca, donna e mamma, come vi dicevo, di due bambini, di un ragazzo delle scuole superiori e di una bambina che frequenta la quinta elementare. Essadia, hai voglia di condividere con noi che cosa dal tuo punto di vista di super genitore ha funzionato e che cosa ha funzionato meno in questo periodo di didattica a distanza? Buongiorno a tutti, grazie Francesca. Io sono in realtà mamma di quattro bambini, perché parliamo del grande e quella che fa l'elementare, però ci sono altre due comunque da gestire dentro a casa. Questa emergenza veramente ci ha messo ad ora a prova. Io come mamma all'inizio ho goduto, perché il fatto di non svegliarsi al mattino, di non preparare, di non essere precisi con l'orario, mi è piaciuto all'inizio, però dopo un certo momento, la prima settimana, la seconda, ho iniziato io stessa a sentire la noia, questo ritmo che è veramente molto lento, molto rallentato, ma comunque in grosso modo l'ho accettato e non mi dispiaceva molto. Invece per la scuola, per i miei figli, come sappiamo tutti, fino a marzo non c'era ancora niente, fino alla prima settimana di marzo, però da lì sono iniziati le prime richieste, sia delle famiglie che della scuola stessa, come andrà a finire, cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare. Per quello inizio con il punto positivo che mia figlia, quella che fa, l'elementare, veramente ha delle maestre fantastiche, che sono stati sempre vicini dal primo momento. Allora, ancora non si parlava di come andrà, andremo a finire le lezioni, sono stati già vicini ai bambini, già con il whatsapp, che devono ai bambini, cosa fate, state facendo esperimenti, uscite, cosa state cercando amici, cosa avete creato voi i bambini stessi e devo dire che talmente sono bravi che veramente i bambini sono già una comunità loro stessi, perché già appena si è fermata la scuola ha iniziato a chiedere loro stessi cosa facciamo e hanno creato dei sottogruppi whatsapp, ragazzi da sole, ragazzi con qualche ragazzo il più simpatico della classe, ogni volta pescano uno che lo fanno entrare e man mano si sono creati dei gruppi con diversi nomi, best friends, migliore amiche della classe, amiche per la pelle, comunque questo parlo di mia figlia, la vedevo cosa faceva, è la prima cosa che hanno riuscito a fare tutte le ragazzine della quinta elementare della Parini, dove c'è mia figlia, si sono andate a cucinare, alla cucina. Allora, e questo l'ho trovato una cosa simpaticissima, geniale, che ne fa uno spendere tempo, ma in cose molto utili, perché la cucina comunque è una cosa utile e che ci serve per viverci. E da lì, quando sono iniziate le lezioni, veramente devo dire che abbiamo la fortuna, io personalmente, di avere il wifi a casa, di avere un buon computer, un buon cellulare, la cosa che non ce l'hanno tutti purtroppo. Allora, ha funzionato a casa mia, per mia figlia, che fa l'elementare, perché ho queste modalità. Purtroppo, sentendo altre famiglie che non hanno questo mezzo, il wifi, che è una banalità oggi, uno dice, ma come? C'è qualcuno che non ha il wifi? Sì, ci sono tantissimi che non ce l'hanno, tantissimi che non hanno il computer, o se ce l'hanno è molto vecchio, non regge questi sistemi adesso per imparare da lontano. E poi, se uno è autonomo, io ho la fortuna che i miei figli sono autonomi, io sono un po', ancora, sono molto, molto indietro, paragonandomi con loro, non sono, non ho tanta amicizia con questi mezzi, ma loro sono autonomi. Quando, lei, parlo sempre di mia figlia, della quinta elementare, quando le maestre le danno dell'indicazione su WhatsApp, a Maria vogliamo fare sta cosa, lei è sempre pronta. Anzi, facevano anche esperimenti con lei, perché è talmente brava che iniziano con lei sempre. La lezione si faceva da lunedì fino a giovedì e il venerdì lo fanno proprio un incontro tra tutti, le maestre e i ragazzi, proprio tutti. Invece, le maestre hanno fatto sottogruppi per non intasare il sistema e comunque che la lezione viene compresa bene. Hanno fatto come se fossero in classe, ma con tanta tranquillità e tanta veramente voglia di lavorare. Io li amavo, li ammiravo tantissimo, ma con questa, veramente, con questa emergenza li ho amati di più, li ho apprezzati, perché veramente io sentivo i discorsi che facevano con mia figlia, gli sperimenti. Sembra un'adulta mia figlia quando la parlavano, sembra una della loro età e questo io veramente l'ho apprezzato moltissimo. Sempre Francesco, conoscendo i miei figli, veramente mi dice che i figli sono bravissimi, però sentendo le maestre, il gruppo ho capito da dove viene questa bravura, che non ce l'hanno tutti. Per fortuna, io l'ho avuta con i miei figli, ma purtroppo altre famiglie le danno i compiti su WhatsApp con un messaggio e il ragazzo deve rispondere mandando le foto. Questa cosa l'ho trovata veramente molto triste, proprio se staccato non c'era più rapporto. C'è tanto minifredismo, perché vedete che queste maestre fanno il minimo indispensabile. Io ti do i compiti, le fai, non le fai, tu mi mandi la foto e è finita lì. Però non c'è chiamata, non c'è chiamata di gruppo, non c'è una richiesta dalla famiglia stessa, come sta andando, cosa state facendo, se avete bisogno di qualche aiuto, no, non c'è niente. Invece per i miei figli c'è tutto questo, c'è una continua domanda come state, cosa fate, riuscite a seguire, cosa non riuscite a comprendere. C'è sempre, c'è proprio un interaggio continuo. Questo per quello che riguarda la bambina della quinta elementare. Invece, più problematiche, l'ha avuto mio figlio della terza superiore. Allora, si è trovato che i prof non sapevano loro stessi come muoversi, disorganizzati, perché anche quando hanno trovato il metodo, hanno usato tutti quasi Zoom e Bsmart, tutti al mattino, era sempre intasato, o se non riusciva a sentire l'audio, non riusciva proprio a vedere il prof, perché non si vedeva la foto, il video, e ancora peggio, chi riusciva a entrare, entrava, chi non riusciva, ma chi lo, niente, non ha raccontato. E per un certo periodo veramente ho visto mio figlio molto giù, perché non riusciva a entrare, o se entrava non partecipava, perché l'audio non c'è, non riusciva, e tante volte, e questo colpa anche dei prof che non si organizzano, capita che due lezioni nella stessa ora. Allora, ragazzo, non so se seguire questo o questo. Questo ha fatto sì che tantissimi, lui ancora deve recuperare delle cose, e questo mi dispiaceva molto, perché non è giusto, dico. Potevano proprio smaltire queste lezioni per tutta la giornata, tanto come i ragazzi, anche i prof sono a scuola, e questo invece l'hanno usato quelle dell'elementare, devo dire, perché hanno iniziato a fare lezioni al mattino, però non riuscivano bene. Hanno optato per il pomeriggio, e sono riuscite, veramente si sentiva bene, tutto è chiaro, e devo dire che hanno goduto di questa crisi, malgrado che ci crisi, ma hanno goduto. Sembra di starci veramente dentro un'aula tutti insieme. talmente andava la lezione molto liscia, che sembra veramente essere in un posto unico. Invece quello non ha funzionato per ogni affidio. Hanno continuato sempre, al mattino, lui in questo momento, con il computer, sta fuori sul ballatoio. Allora, questa è anche una cosa che purtroppo ne soffriamo noi, che abbiamo le case piccole, specialmente le famiglie numerose, contando che noi, adesso per fortuna il mio marito è al lavoro, siamo in cinque quando ci sono io e i miei figli. Allora immaginate, uno con un computer, l'altra con un altro, o con il cellulare, allora il casino che si crea, allora mio figlio ha scelto di uscire fuori sul ballatoio e continuare la sua lezione. Che anche questo, io non ho mai amato tanto la mia casa, però con questa crisi ho amato tanto questo ballatoio, perché è diventato una cosa, un optional questo, è diventato una cosa in più, che tanti altri non ce l'hanno. Nel piccolo ci adattiamo. Siamo riusciti. In grosso modo, siccome io non sono una che vede solo le cose negative, mi piace anche dire che in grosso modo ha funzionato. Ha funzionato tutto, per me. Per me, parlo sempre, sottolineo, per me ha funzionato, perché vedi i miei figli che continuano a seguire la lorozione, c'è un feedback, c'è domanda risposta, e c'è, c'è intervento, c'è risposta da parte dei miei figli. Io da mamma riesco comunque a vedere delle cose e non riesco a seguire tutto, perché ormai per il mio figlio non riesco a seguire quello che fa, però vedo che c'è, c'è presenza, c'è scuola e c'è un allievo a casa che sta seguendo. Che purtroppo non per tutti. Io, come dicevo, ascoltando e sentendo altre mamme, veramente sono in alto male con i figli, specialmente che ha più di uno, che ha le maestre che non fanno un dovere, il loro dovere, come se dovrebbero farlo. E questo veramente ci dispiace molto. Mi è sembrato davvero molto, 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 molto prezioso il tuo contributo. Anche raro, devo dire, riuscire effettivamente a dare voce ed avere una panoramica così ampia del punto di vista appunto di chi di fatto a casa la didattica a distanza l'ha vissuta tutti i giorni, in un contesto come il tuo, privilegiato, indubbiamente, e comunque allo stesso tempo un contesto riconoscitelo, te lo dico spesso, anche difficile. E quindi ti ringrazio personalmente tantissimo per questo contributo. Grazie a voi! Grazie! Grazie per una continuazione. Grazie, lo vi lascio. Grazie! Ciao! Allora, proverei a passare la parola agli educatori e alla docente provando, chiedendovi questo secondo appunto la vostra esperienza di educatore, di insegnante appunto cosa si è modificato nel vostro ruolo in quale modo si è modificato il vostro ruolo in questo periodo e anche quali strategie avete messo in atto per reinventare il vostro ruolo ancor più che prima oggi, come dicevamo, interconnesso con gli altri. E vi chiederei anche se riuscite che funzione ha avuto e in che modo ha rinforzato il vostro ruolo, il lavoro di rete e di comunità appunto in questo periodo. Proverei a passare la parola a Marta Piolatto, educatrice dell'associazione come a Zai. Sì, grazie Francesca, buongiorno a tutti. Allora, a me viene da dire che il ruolo di educatore non è in sé cambiato, si sono forse acuiti alcuni aspetti nell'approccio, mentre invece altri sono rimasti in secondo piano. In particolare mi soffermerei su due e sono lo sguardo attento, creativo e condiviso e sulla relazione. Rispetto allo sguardo che dicevo attento, creativo e come cosa fondamentale condiviso, condiviso tra più adulti, parlo dello sguardo sul ragazzo e sulla situazione. Nel senso che è stata necessaria una maggiore attenzione e anche una buona dose di creatività per saper leggere delle situazioni nuove in un contesto inedito. Questo ad esempio ha voluto dire che saper riconoscere ad esempio che la mancata connessione in una video lezione o ad un appuntamento per fare i compiti al pomeriggio non voleva automaticamente dire che il rapporto con il ragazzo fosse aperto, ma magari in quel preciso momento e in quel preciso contesto fosse più che altro un'assenza da attribuire a una difesa che il ragazzo metteva in atto davanti a numerosissime richieste che gli arrivavano dall'esterno. Lo sguardo creativo anche per pensare a nuovi modi di coinvolgimento dei ragazzi. Penso ad esempio ad un progetto con ragazzi con minori stranieri. la creatività è stata fondamentale per cercare diversi modi con gli strumenti che avevamo a disposizione per ricreare la dimensione di gruppo. Creatività anche nelle modalità di coinvolgimento del singolo nel senso che in questo periodo sono nate relazioni nuove e però senza il potersi vedere in presenza è stato necessario pensare a nuove modalità per far crescere questa relazione. E proprio rispetto alla relazione un aspetto particolare di questi mesi è stato in particolar modo facendo riferimento al centro aggregativo di Atai di Porto Palazzo un aspetto è stato il soffermarci sulla dimensione individuale della relazione. Dopo un primo periodo in cui i ragazzi erano iperreperibili e in cui la dimensione di gruppo è andata è avvenuta in modo abbastanza automatico abbiamo deciso di soffermarci proprio sull'aspetto sulla dimensione individuale. Questo ha permesso di venire a conoscenza di capacità che non conoscevamo dei ragazzi ha permesso ai ragazzi di avere direttamente e immediatamente dei rimandi positivi di sé da un'altra persona provenienti da un adulto da un'altra persona e soprattutto ci siamo accorti che la relazione è stato l'unico strumento in grado di scardinare la facilità con cui si può essere assenti ad una ad un'attività online nel senso che la responsabilità dell'assenza è molto più cioè è decisamente inferiore perché è molto più facile non rispondere a una videochiamata o non partecipare a una videolezione piuttosto che non non essere in presenza e la responsabilità nei confronti di una relazione di una persona è stato veramente l'unico strumento in grado di contrastare questa questa dinamica rispetto alla rete vale un po' quello che dicevo rispetto allo sguardo condiviso sul ragazzo e sulla situazione in alcuni casi la rete è stata del tutto fondamentale se non determinante si è trattato di innanzitutto di rete fra colleghi perché in più step in più momenti da soli ciascuno di noi non sarebbe riuscito a individuare una strada da intraprendere se non condividendo le varie prospettive i vari sguardi e opinioni si è trattato poi anche di reti interprofessionali alcune che si sono consolidate altre invece che sono proprio nate nei mesi di nei mesi di covid e reti tra operatori insegnanti affidatari volontari di asai genitori quello che la motivazione che penso sia dietro alle nuove reti che si sono si sono create e si sono instaurate è il fatto che un contesto esterno inedito abbia scardinato delle prassi che forse si erano consolidate un po' per abitudine e quindi ciascuno in ciascun ruolo si è sentito nella condizione di non farcela da solo di non potercela fare da solo e quindi si reza necessaria il supporto e la collaborazione con altri a fronte di questo per poter dire che abbiamo imparato qualcosa dal lavoro di questi medi a noi sta la responsabilità di coltivarle queste reti grazie grazie marta per il tuo contributo per il tuo punto di vista che appunto è stato sia un punto di vista legato al lavoro fatto dall'educatore direttamente all'interno della scuola che con riferimenti al centro aggregativo e quindi alla dimensione appunto anche del collegamento del tempo scolastico con quello con il tempo libero dei ragazzi e dei bambini che incontriamo nei nostri percorsi passerei passerei quindi la parola subito a Simone Simone Piani anche lui educatore dell'associazione ASAI che lavora in particolar modo con ASAI all'interno anche della scuola Poli dell'istituto comprensivo Reggio Parco che è la stessa scuola da cui proviene la maestra Gabriella a cui dopo daremo la parola quindi lascio a te Simone possibilità di condividere ciao a tutte a tutti grazie Francesca per l'invito a proposito di reti già in questa sede ci sono degli scambi e delle interconnessioni molto interessanti secondo me ma io intanto condivido parola per parola quello che ha detto Marta in quanto collega ma insomma anche persona con cui condividiamo obiettivi e visioni anche intanto appunto credo che in linea generale il ruolo dell'educatore o quantomeno l'approccio all'agire educativo da parte di mia come di educatore ma della categoria forse non è cambiata particolarmente ma semplicemente per il fatto che modus operandi è quello di leggere le situazioni e adattare le proprie strategie quindi anche in questa situazione si è cercato di leggere quello che stava capitando e adattarsi mantenendo dei punti saldi chiaramente però modificando il proprio la propria azione e forse in questo è un po' nell'operativo è un po' cambiato il nostro il nostro ruolo da subito ci si è resi conto che non si poteva proseguire se non con tutti con tutte le persone che c'erano prima e forse anche più di prima mi viene da dire in certi contesti perché l'assenza era visibile più visibile di prima e le situazioni escludenti emergevano con più forza quindi la strategia è stata leggere e la situazione la situazione ci ha chiesto di porci come obiettivo educativo innanzitutto agire per riagganciare tutti lavorando a stretto contatto con gli insegnanti e quindi essendo io molto immerso nella situazione classe per noi per me e colleghi la dimensione di gruppo è stata fondamentale e il gruppo è stato il primo obiettivo ricreare in qualche modo la dimensione del gruppo mutata fatta virtualmente quindi con relazioni ancora più invisibili ma andava ricreata e per far questo si è messa in gioco tante risorse anche risorse come diceva Marta che magari prima non venivano messe in campo perché non ce n'era o apparentemente non ce n'era bisogno mi viene in mente il caso un po' emblematico di un bambino di quinta elementare per il quale la barriera linguistica si è esponenzialmente alzata rispetto a prima perché mancando un contatto fisico tutta una prossemica insomma una serie di elementi che normalmente aiutavano nella relazione e nella comunicazione la lingua essendo preponderante nella comunicazione online ha imposto una barriera molto alta e si è cercato di affrontare questo ostacolo mettendo in campo la risorsa di un ex minore di un minore non accostaniero non accompagnato ex minore insomma che informalmente è riuscito intervenire e a dare veramente una grossa mano e anche oltre quella situazione in altri contesti quindi si condivido anche la parola creativo che è stato tirato fuori da Marta prima strategie e azioni creative immaginarsi che cosa si può fare a fronte di nuovi bisogni la lettura che ci è stata chiesta non è stata la lettura tradizionale ma di una situazione anomala quindi di potenziare nuovi bisogni o quantomeno bisogni che prima non emergevano quindi sicuramente i vecchi le vecchie modalità anche consolidate anche le prassi quelle che forse si tiravano si mettevano in atto con un po' di inerzia sono venute meno e questo ci ha dato mi viene da dire con una lettura un po' ottimista l'occasione di mettere in campo nuove forze nuove modalità di azione nuove strategie sfruttare il mondo digitale noi educatori tradizionalmente siamo un po' resti al digitale perché la relazione innanzitutto si fa dal vivo verissimo però in questa situazione ci ha imposto un'altra modalità che non poteva essere letta come cattiva perché diversamente non avremmo potuta mettere in atto mi sento di dire che diversi strumenti si sono rivelati altamente creativi e altamente in qualche modo democratici o alla portata di tutti se attuati con il giusto supporto alla fine di tutto il gruppo si è nella maggior parte dei contesti si è ricreato ci è voluta pazienza ci è voluto molto lavoro ma si è si è ricreato come ruolo di educatore mi sento di dire che almeno per quanto mi riguarda mi sono sentito necessariamente una fucina di idee innanzitutto insieme ai colleghi insieme alla rete per tirare fuori nuove proposte nuove iniziative la rete d'accordissimo con Marta è stata necessaria forse ecco i luoghi le reti che già funzionavano prima hanno tenuto o parte di loro hanno tenuto dove non c'erano si si è trovati a doverle creare questo di nuovo ci sottolinea il fatto che la rete è imprescindibile aggiungo a quello che diceva Marta il fatto che lo sguardo del singolo è sempre parziale quindi è fondamentale metterlo in rete perché i vari sguardi le varie letture si devono contaminare tra di loro non posso pensare che il mio sguardo esaurisca la lettura di una situazione ma banalmente anche di una persona io vedo in qualcuno una parte di quel qualcuno qualcun altro della rete vedrà un'altra e si intrecciano questo è veramente penso la base di una lettura tutto tondo delle persone la rete ci è dovuta essere noi singoli operatori ci siamo dovuti essere anche come testimonianza direi la testimonianza che nonostante tutto ci si può ci si può relazionare si può stare in relazione ci si può essere si può fare lo stesso ecco non ci fossimo stati ci fossimo tirati indietro probabilmente avremmo dato un messaggio esponenzialmente più forte della serie di ostacoli ci allontanano ci siamo dovuti essere la rete ha dovuto sostenersi per esserci ecco grazie Simone grazie a te grazie anche a te appunto per il tuo contributo profondo grazie per aver ripreso l'elemento sottolineato da Marta l'importanza della creatività e di trovare nuove strategie di rinnovarsi e per aver ripreso il concetto di indispensabilità del lavoro di rete per farlo in modo efficace quindi ti ringrazio per esserci per esserci stato e passo subito la parola a Gabriella Morello che è una docente come vi dicevo della scuola primaria Poli dell'istituto comprensivo Regio Parco che sono molto felice confesso di avere qui tra noi oggi ho avuto la fortuna immensa di lavorare con Gabriella per un anno scolastico della mia vita professionale e quindi sono davvero felice che tu ci sia Gabriella e ti lascio la parola grazie buongiorno a tutti buongiorno a Francesca grazie a te per questo invito e contraccambio la fortuna di aver lavorato con te per un anno che è stato molto significativo provo a cogliere la sfida di queste domande che aprono degli scenari decisamente ricchi di dettagli e di informazione la prima suggestione è una riflessione sulla scuola come definizione e come luogo la scuola è una comunità è una comunità fatta da tante piccole comunità al suo interno si parla sempre della scuola al singolare ma in realtà le scuole sono tante all'interno di questa istituzione si ritrovano le classi che sono formate da bambini da insegnanti che interagiscono con le altre classi e quindi già di per sé una piccola comunità poi la nostra scuola ha solo una sezione e quindi è chiaro che è ancora più comunità al suo interno è una comunità dove vengono agiti degli stili di insegnamento e di comunicazione adattati anche sulla base delle caratteristiche dei bambini ma è soprattutto un luogo in cui queste relazioni si sviluppano durante la DAD questo luogo è sparito abbiamo dovuto entrare nelle case dei nostri allievi e delle loro famiglie abbiamo stravolto come diceva la mamma prima abitudini e luoghi propri della famiglia e dello stare insieme disagio che ho vissuto anche come mamma non solo come insegnante quindi queste case sono diventate degli uffici open space sfruttando tutti tutti gli ambienti a volte anche i bagni i corridoi e i balconi cioè tutto ogni cosa avesse una porta era buona ecco per essere trasformata in un angolo di studio la sfida però è stata questa continuare malgrado tutto a mantenere una relazione con dei bimbi nel nostro caso bimbi piccoli perché sono bimbi di prima bimbi che hanno ancora poca dimestichezza con l'informatica che hanno poca dimestichezza anche con i cellulari e fino a qualche mese fa avremmo ringraziato Dio per questo e invece adesso il fatto che i bimbi sappiano usare Whatsapp è una competenza non è più un limite anzi una risorsa per sviluppare quel senso di comunità di cui i bambini hanno bisogno tra pari e con le insegnanti quindi sicuramente la prima sfida è stata proprio questa continuare a svolgere il proprio ruolo come è cambiato è cambiato nella nella quotidianità e nella prospettiva nella quotidianità perché se il bimbo non si poteva connettere magari era necessario chiamarlo col telefono oppure cercare delle soluzioni per mantenerlo connesso perché le infrastrutture hanno giocato un ruolo chiave in tutta questa partita non sono state neutre avere il wifi avere dei device potersi di permettere non sono informazioni scontate da dare assolutamente quindi la reciprocità la ricerca di una reciprocità con gli allievi è un'intenzionalità forte da parte degli insegnanti di continuare a mantenere viva questa relazione e poi il secondo mandato è stato sicuramente quello di non far perdere la voglia di imparare a dei bimbi così piccoli che si sono ritrovati a vivere il loro primo anno di scuola a essere là dove tutto inizia per metà anno e poi per colpa del virus è sparito tutto quindi ci siamo ritrovati dietro a dei video e mantenere la voglia di imparare non è stato semplice perché inizialmente si è pensato a un periodo di vacanza prolungato e quindi ma sì dai vabbè saluto la maestra ma bene così poi è subentrato anche uno stato un po' di depressione nei bambini perché questa vacanza dopo un po' ha cominciato a dare noia e a suggerire anche delle domande importanti sul loro futuro i bambini sono piccoli ma le domande se ne fanno e quindi hanno anche vissuto uno stato un po' di sconforto e allora è stato importante dialogare con loro e cercare di capire che cosa avrebbero voluto imparare e come quindi attraverso questo dialogo ci siamo rinventate nel nostro ruolo di insegnanti cercando di mantenere due punti fermi appunto la relazione e la voglia di imparare mantenere viva la voglia di imparare nei nostri nei nostri bimbi e questo non si può fare da soli si fa in rete sempre e comunque non lo può fare un insegnante da solo lo fa con una rete più prossima che è quella dei colleghi degli insegnanti di team lo fa con i genitori che sono diventate una parte fondamentale di questa relazione che non è più stata vissuta tra docenti e allievi ma è diventata anche parte delle famiglie quindi si è dovuto anche un po' regolamentare anche questo flusso di informazioni e questo nuovo modo di agire dei ruoli è stata vissuta con il territorio ad esempio con ASAI insomma con voi dove in questi anni sono stati portati avanti dei progetti ma sono stati portati avanti anche dei percorsi di vita e di miglioramento per gli allievi si sono dati veramente degli strumenti e delle possibilità oltre che la percezione che gli adulti nel momento del bisogno ci sono sanno fare gli adulti si mettono insieme e ti aiutano concretamente che non è un messaggio da poco l'abbiamo fatto con gli strumenti che stiamo usando anche adesso con le piattaforme con i cellulari con le chat con molti strumenti che la didattica offre anche a livello digitale che richiedono però ripeto infrastrutture sia nella creazione sia anche nella fruizione perché poi se dall'altra parte i bimbi non hanno un computer un tablet ma hanno degli smartphone la produzione cambia e quindi questo doversi continuamente adattare alla situazione quindi come è cambiato il nostro ruolo è cambiato dovendosi costantemente adattare adattare ai bisogni e alle risorse dei nostri allievi grazie Gabriella grazie anche a te per il tuo punto di vista da docente e da mamma tra l'altro anche tu di due di un ragazzo e di una bambina io ringrazio davvero tutti tutti voi per la vostra preziosa testimonianza e ci saluterei con un augurio mi viene da dire con l'augurio che questa comunità che abbiamo un po' in qualche modo rappresentato in parte con la nostra presenza e testimonianza oggi possa ripartire insieme a settembre portando appunto con sé quanto di buono imparato sperimentato e come ci dicevamo incontrato in questo periodo vi ringrazio a presto grazie a te grazie